Hanno scavalcato due giardini per raggiungerne un altro che gli avrebbe permesso di entrare in un appartamento. Hanno spostato le telecamere ma il cigolio di un cancelletto ha richiamato l'attenzione di una signora al piano superiore dello stabile di via Brignano che ha urlato mettendoli in fuga. Ladri nuovamente in azione ieri sera nella zona collinare della città di Salerno negli stabili della cooperativa Consorzio Casa dove poco prima delle 20 due giovani sono stati messi in fuga mentre tentavano di aggrapparsi ad un balcone. Ma il tentativo sventato grazie ai residenti che ormai fungono da vigilanti del quartiere da tempo sotto assedio dei ladri ha avuto un suo epilogo poco più tardi. Sebbene alle ore 20 siano giunti i carabinieri sul posto allertati per la presenza dei malviventi, l'allarme sembrava rientrato ma non è stato così perché gli ospiti sgraditi hanno semplicemente cambiato obiettivo concentrandosi in un appartamento vicino dello stesso agglomerato residenziale. Intorno alla mezzanotte i proprietari di una casa residenti nella palazzina poco distante, sempre in via Brignano, al loro rientro hanno scoperto che il loro appartamento era stato visitato da malviventi. Tutto messo a soquadro, i ladri hanno portato via oro e denaro contante. Quello di stanotte è solo l'ultimo di una serie di furti, almeno una dozzina, che sta interessando in modo particolare i residenti di via Brignano, dove l'assenza totale di illuminazione e le diverse vie di fuga rese agevoli da strade sterrate del cantiere aperto facilitano la presenza costante di ladri d'appartamento. Una situazione che però rischia di degenerare perché i cittadini sono spaventati e seppur abbiano chiesto in vano di essere ricevuti dal sindaco di Salerno, richiamando un'attenzione delle forze dell'ordine a vigilare in maniera più capillare il territorio, potrebbero autonomamente reagire in maniera incontrollata, con seri rischi per la vita e l'incolumità delle persone. Il problema è proprio questo, siamo sotto assedio, totale assedio e totale assenza. Al di là di una paura di lasciare le case, lasciamo molto spesso degli anziani a casa con dei bambini e da quanto abbiamo visto hanno pochissimi scrupoli nel voler entrare. Ieri sera, proprio per l'ennesima volta, a distanza di 15 giorni fa, quando stesso io ho sventato l'altro furto, stavano mettendo a segno nella palazzina adiacente a quella dove era successa l'altra volta un altro furto. Addirittura dalle telecamere di servizio abbiamo visto che si sono incappucciati e hanno girato le telecamere verso una parte ovviamente dove non era ben visibile. Sono stati messi ovviamente in fuga dalla proprietaria di casa che ha gridato allarme e sono uscito da confinante e sono andato a vedere là. Sono scappati, si sono dileguati nei soliti terreni dove spesso e volentieri prendono come via di fuga. Nel frattempo che c'erano le forze dell'ordine che stavano facendo il soprarugolo di routine a 500 metri da dove era successo il primo misfatto sono andati in un altro appartamento e lì sono riusciti a mettere a segno il furto portando via ovviamente soldi e denaro che sono le cose che ovviamente mirano di più. C'è una presa di posizione, un presidio, una tutela da parte delle forze dell'ordine o c'è una carenza da questo punto di vista? No, su questo non possibile, vengono chiamate periodicamente e rispondono anzi ci hanno detto non vi create problemi nel chiamarci perché quella volta che voi chiamate potrebbe essere quella buona affinché ovviamente vengano messi al gabbio. Il problema è che i punti di accesso sono quelli dove riescono a farla franca cioè a passare inosservati in dei terreni. Il problema è più che altro la scarsissima illuminazione e parlo per quanto riguarda la zona dove è successo il primo tentato furto dove ovviamente aspettiamo da tempo le opere di urbanizzazione anche se noi stessi soci affittuali le abbiamo anticipate tempo fa però il problema attuale è forse l'assenza totale dagli enti che ci rappresentano e dal consorzio case che attualmente è colui che ha ricevuto i fondi anticipatamente dell'urbanizzazione che non mettono in opera. e sembra ci sia una difficoltà anche nel volerci incontrare.